A che serve il sale per lavastoviglie? Ogni quanto va inserito? Quale sale è adatto ma soprattutto come regolarlo? Ciao sono Fernando e attraverso il mio canale ti aiuto a incrementare prestazioni e durata dei tuoi elettrodomestici e a ottenere grandi risparmi. Il sale per lavastoviglie serve per addolcire l'acqua ed evitare la formazione di calcare che opacizza le stoviglie e può causare la rottura precoce della macchina quindi bisogna utilizzarlo e regolarlo correttamente né poco né troppo. Vediamo ora come inserire e regolare il sale per rendere la tua lavastoviglie perfettamente efficiente e funzionante a lungo. Prima di tutto inserire il sale va fatto in due occasioni uno subito dopo l'installazione estrarre il cestello inferiore aprire il tappo inserire un litro d'acqua e versare una scatola di sale per lavastoviglie utilizzando l'apposito in buto e richiudere il tappo. Il sale deve essere inserito anche quando la lavastoviglie segnala la mancanza. Questa operazione va eseguita all'incirca ogni mese. La frequenza dipende da vari fattori tra cui il numero di utilizzi e la durezza dell'acqua della tua zona. La maggior parte dei modelli prevedono una spia luminosa che si accende per segnalare la necessità di rifornimento. Altre macchine invece sono dotate di un indicatore ottico sopra il tappo del sale. Attenzione numero uno. Subito dopo l'inserimento del sale è necessario pulire bene il fondo della lavastoviglie e avviare un programma di lavaggio per evitare che i granelli sparpagliati arrugginiscano il fondo della vasca. Attenzione numero due. È importante utilizzare soltanto sale specifico per lavastoviglie. Il sale grosso da cucina infatti non è adatto perché rischia di danneggiare la lavastoviglie. Infatti il sale per lavastoviglie contiene agenti specifici antincrostanti che assicurano che non si trasformi in un ammasso solido che potrebbe bloccare l'addolcitore interno. Lo stesso risultato non può essere garantito dal sale grosso per cucina. Se trovi utili questi argomenti mettimi un like per farmelo sapere. I primi dieci che mettono il like vincono una mia consulenza a spese proprie. Oltre all'inserimento è importante effettuare anche la regolazione della quantità di sale che la lavastoviglie preleva ad ogni ciclo. È fondamentale impostare tale quantità in base alla durezza dell'acqua della tua zona. Per ottenere le migliori prestazioni di lavaggio è quindi necessario regolare correttamente il livello del sale. Infatti se l'acqua della tua zona è dura il livello deve essere maggiore per prevenire la formazione di macchie estriatore sulle stoviglie e ridurre i consumi elettrici. Al contrario in caso di acqua dolce il livello deve essere più basso altrimenti si avranno danni a bicchieri e posate. Inoltre ci sarà troppa schiuma con conseguenti aloni biancastri sulle stoviglie. Ecco come regolare il sale. Tutte le lavastoviglie prevedono la possibilità di regolarne il livello. Sui manuali d'uso è riportata una tabella con la scala di durezza che può essere da 1 a 5 o da 1 a 10 eccetera. Annota il livello della tabella corrispondente al grado di durezza della tua zona. Ti servirà per impostare il livello del sale sulla tua lavastoviglie. Alcune macchine soprattutto quelle più datate consentono la regolazione manuale con una levetta vicino al tappo. Per altri modelli di più recente produzione la regolazione avviene elettronicamente mediante combinazione di tasti. Consulta il manuale utente della tua lavastoviglie sia per la scala di durezza sia per le modalità operative di regolazione. Scrivimi nei commenti come ti regoli con il caricamento del sale nella tua lavastoviglie e che tipo di sale usi. Se preferisci posso darti io stesso una mano per eseguire tutte queste operazioni in video call oppure di persona. Qui sotto trovi tutti i miei contatti. La durezza dell'acqua è espressa in gradi francesi. Se non conosci la durezza dell'acqua della tua zona puoi rilevare il valore nella bolletta dell'acqua, chiedere al tuo comune di residenza oppure acquistare un kit di analisi di durezza dell'acqua come quello che trovi qui sotto in descrizione. Considera infine che i cosiddetti detersivi tutto in uno svolgono anche la funzione del sale. Se li utilizzi dovrai abbassare almeno di un livello l'erogazione della tua lavastoviglie altrimenti l'acqua si addolcisce troppo con risultati di lavaggio insoddisfacenti. Tuttavia anche se utilizzi detersivi tutto in uno suggerisco di non azzerare completamente l'erogazione del sale. Infatti è importante mantenere in costante esercizio l'addolcitore interno della lavastoviglie. Bene in pochi e semplici passaggi abbiamo approfondito l'importanza dell'inserimento e della corretta regolazione del sale per la tua lavastoviglie. Con quali benefici? Lavaggi perfetti, maggior durata del tuo elettrodomestico. Ma per ottenere prestazioni ideali non puoi prescindere da corretto caricamento delle stoviglie, abbandono della pratica del risciacquo preliminare dei piatti. Per questo ti consiglio di guardare questi miei due video. Alla prossima!